Per giustificare il suo no al registro delle unioni civili, il gruppo consigliare dell'Udc avrà al suo fianco anche l'onorevole Giampiero D'Alia, in qualità di presidente dello scudo crociato D'Alia della Manforte a quella che è una posizione già trapelata in nona commissione. Proprio qualche settimana fa, infatti, la commissione preseduta dall'Udcina Mariella Perrone aveva respinto la delibera distituzione del registro delle unioni civili. Subito dopo la calendarizzazione del punto all'ordine del giorno, il sindaco aveva lanciato un appello al Consiglio Comunale per votare favorevolmente quello che indica come un segnale di civiltà e un diritto da garantire ad ogni cittadino indipendentemente dal sesso. L'amministrazione comunale incassa così il primo no da parte dell'Udc, che intende rivendicare la scarsa attenzione di Accorinti e Giunta e l'assenza di politica e di sostegno nei confronti delle famiglie. Perso l'appoggio dello scudo crociato per il registro delle unioni civili, un ruolo importante adesso sarà giocato dai consiglieri del Partito Democratico e dagli altri gruppi che fanno riferimento alla coalizione di centrosinistra.